Ciao a tutti e bentornati nel canale, oggi nuovo motocross vlog, sono a Montagnana per una notturna e venerdì sera c'è una temperatura allucinante, infatti sto aspettando un po' per cambiarmi, la macchina segnava 37 gradi quando sono arrivato, è un pochettino proibitivo. Hanno appena anche finito di bagnare la pista da cross quindi mi cambio, vado subito dentro lì. Come al solito vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete iscrivervi tramite il pulsante qui sotto, potete lasciare un mi piace al video e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati con i nuovi video. Questa sera sono qui con la Giorgia, sono qui anche con un'altra persona poi vi svelerò chi, però il tempo scorre quindi adesso mi cambio e dopo la sigla andiamo dentro per il primo turno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Eccoci qua, primo turno fatto, mi sono anche un po' spogliato tra un turno e l'altro perché è un po' caldo, mi sono trovato abbastanza bene, pista è un po' scivolosa ma mi diverto, la moto qui non ero ancora venuto con le ultime modifiche fatte a Sant'Anna, vi lascio il video se non l'avete visto qui in alto. Vediamo chi altro è venuto con me questa sera a correre. Buonasera ragazzi! Signor Maurizio qua, molto contento di essere venuto con me. Oddio, di essere venuto sì, con te non tanto. Si sta divertendo molto e mi hanno pagato per portarlo via, lui non lo sa ma mi hanno pagato per portarlo via di casa. Comunque adesso è già un po' che mi sono fermato e mi sono raffreddato un po', per fortuna. Adesso mi rivesto dentro per il secondo turno. Grandes Quarere Grazie per la visione 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 Grazie per la visione